Dottor Innocenti, cominciamo presentando questo evento che si terrà il 27 novembre in Campidoglio, in Sala Protomoteca, dal titolo Sonno ed Alimentazione, un rapporto bidirezionale. Che cosa significa? Vuol dire che finora non ci è stata data molta attenzione, ma sia il sonno che l'alimentazione sono strettamente correlati e soprattutto l'uno può influenzare l'altro. Entrambi tra l'altro sono regolati da ritmi biologici da sempre sostanzialmente, i cosiddetti ritmi circadiani e poi anche da un processo omeostatico, che è quello che tanto meno mangiamo, tanto più abbiamo l'esigenza di ricorrere all'alimentazione, ma tanto meno dormiamo, ancora più abbiamo bisogno poi di recuperare. Dormire nell'immaginario collettivo viene visto come un'attività passiva, non è così? Che cosa accade mentre dormiamo al nostro corpo? Assolutamente no, nel senso che noi perdiamo la coscienza e la capacità di muoverci durante il sonno, ma tutto il nostro organismo è costantemente in attività, in modo particolare il cervello, soprattutto alcune fasi del sonno, soprattutto per dire la fase del sogno, la cosiddetta fase REM, è un momento ad alta attività metabolica dal punto di vista cerebrale, così come nella veglia, ma la funzione non è solo a livello cerebrale, perché poi durante il sonno viene regolata anche la produzione di molti ormoni, ad esempio, tra cui faccio un esempio l'ormone della crescita, che è assolutamente fondamentale, ad esempio, per lo sviluppo sia fisico che mentale dei ragazzini. Quindi dormire poco può voler dire avere anche una ridotta produzione di ormoni indispensabile per lo sviluppo psico-fisico. Anche l'ormone dell'appetito viene coinvolto in qualche modo? Assolutamente sì, ci è visto che, ad esempio, l'ormone cosiddetto leptina, che è stato scoperto nel 1994, è un ormone che regola il nostro senso di sazietà e che viene prodotto fondamentalmente durante le ore notturne. Quindi una deprivazione di sonno, cioè una riduzione del sonno, ci dà anche un maggiore senso di fame. Quindi la leptina viene prodotta in modo ridotto, mentre un'altra sostanza, che è la grelina, che fa esattamente l'opposto, cioè ci dà il senso di fame, viene prodotta maggiormente. Una cronica riduzione del sonno, che tipo di patologie potrebbe far sorgere? Beh, ovviamente tutti noi abbiamo l'esperienza della deprivazione acuta, cioè se io una notte non dormo, il giorno dopo ho difficoltà di concentrazione, di attenzione e così via. Ma una cronica deprivazione di sonno crea delle conseguenze sulla salute molto gravi, in particolar modo dal punto di vista cardiocircolatorio. Ad esempio la deprivazione di sonno può essere causa, oltre che di obesità, anche di diabete, favorisce sia l'infarto che l'ictus e anche aritmie cardiache. Quindi tutta una serie di conseguenze grave sulla nostra salute, ma anche sulla nostra qualità di vita. Quando si parla di dormire in modo adeguato, che cosa si intende? Quanto dovrebbe dormire un adulto? Allora, la regola generale per la maggior parte delle persone è che si debba dormire circa 7-8 ore per gli adulti. Però ovviamente il parametro fondamentale per giudicare il nostro sonno è capire la mattina il risveglio, se mi risveglio sufficientemente riposato, quindi in grado di affrontare un'altra giornata, vuol dire che ho avuto un sonno di qualità, per qualità intendiamo sia come quantità di ore, ma anche come struttura proprio del sonno, come qualità intrinseca. Quindi ovviamente non è solo un discorso di ore che ci porta a un sonno ristoratore. Poi ci sono alcune persone che invece hanno bisogno di una quantità di ore minore, la Thatcher, Napoleone, che sappia erano brevi dormitori. Altri, come Einstein, hanno bisogno di 10 ore. Negli ultimi 50 anni quante si sono ridotte in maniera cronica le ore dedicate al sonno e quali sono le cause? Allora, negli ultimi 50 anni sì, ci sono degli studi che hanno chiaramente dimostrato che c'è stata una riduzione media giornaliera, quindi un dato piuttosto importante, di un'ora e mezza a due al giorno. Quindi diciamo dati piuttosto significativi. Le cause è che noi ormai cerchiamo di avere una giornata cosiddetta di 24 ore, perché ormai la nostra quotidianità è legata fondamentalmente agli aspetti lavorativi e la sera magari invece andare a dormire preferiamo gli aspetti sociali, quindi andiamo a cena fuori con gli amici, ci tratteniamo fino a tardi e quindi molto spesso andiamo in carenza di sonno. L'avvento dei tablet, degli smartphone ha in qualche modo rivoluzionato le nostre abitudini, la nostra quotidianità, ma non tutti sanno che le fonti luminose hanno degli effetti molto importanti, soprattutto dannosi, creano degli scompensi, soprattutto al sonno e alla melatonina. Allora assolutamente sì, ovviamente il fatto che noi passiamo le serate davanti a un computer o tablet, già questo predispone avere un atteggiamento mentale più vigile, quindi di fatto non facilita il sonno. Le fasi che anticipano il sonno dovrebbero essere dedicate un po' più al rilassamento, ad attività più monotone che facilitano il sonno. D'altra parte è dimostrato che le stesse, il tablet, il computer, ma anche il telefonino, gli smartphone, nella loro luce hanno una particolare onda, la cosiddetta luce onda blu, che determina un'inibizione della produzione di melatonina, che come sappiamo è un ormone che viene segreto dalla ghiandola pineale durante la notte, anzi comincia nelle ore serali, proprio per facilitare anche il sonno. E si mantiene una produzione anche notturna, quindi assolutamente ne risentiamo dal punto di vista sia come quantità che come qualità di sonno. Dormire in modo adeguato dunque è importante, però non per tutti è possibile, perché due fenomeni molto diffusi sono quelli dell'insonnia e anche dell'apnea notturna. Allora come si contrastano? Allora come dicevo prima, intanto per quanto riguarda l'insonnia, che colpisce addirittura in modo cronico circa il 10% della popolazione, quindi un dato assolutamente molto significativo, spesso l'insonnia deriva anche da nostri comportamenti che non sempre sono adeguati e che non sempre dedicano la giusta attenzione al sonno stesso. I rimedi per lo più sono di tipo farmacologico per le persone che spesso ne fanno un uso, un abuso in modo assolutamente improprio, però a volte basta anche correggere dei comportamenti, ci può essere poi anche la psicoterapia cognitivo-comportamentale, prima ancora che la terapia farmacologia per correggere un disturbo del sonno. Per quanto riguarda l'apnea, che invece è un altro argomento di estremo interesse, basti pensare che in Italia tra l'altro ci sono 2 milioni di persone che soffrono di apnea ostruttive e solo il 4% è stato diagnosticato in trattamento, eppure l'apnea ostruttiva è una patologia molto grave perché ha importanti conseguenze per la salute e soprattutto è anche causa durante il giorno di eccessiva sonnolenza, per cui ad esempio si è visto che sia la guida ai cosiddetti colpi di sonno, ma anche sul lavoro spesso ci sono situazioni che mettono in pericolo anche il soggetto, tant'è vero che la comunità europea, sulla base dei dati che hanno evidenziato come un quarto degli incidenti stradali siano dovuti a colpi di sonno, quindi gli incidenti più gravi tra l'altro, perché quando uno ha un colpo di sonno perdi ovviamente il controllo della situazione. Per il rinnovo della patente dal 2016 anche l'Italia dovrà verificare che il soggetto non soffra di disturbi respiratori del sonno come le apnea che possono causare sonnolenza di urna. Grazie a tutti!